È il capogruppo della Lega Oscar Aiello che contesta la scelta dell'amministrazione comunale di affidare un incarico a un avvocato di Catania con un compenso annuo di circa 38.000 euro. Si fa portavoce, dice, di avvocati nissani specializzati in diritto amministrativo con percorsi documentati analoghi a quelli del legale catanese incaricato. Ed il capogruppo della Lega sottolinea che la contestazione del consulente esterno per la predisposizione della gara per esternalizzare la gestione dei tributi andrebbe, sempre secondo quanto afferma Aiello, oltre alla professionalità del candidato selezionato, soffermandosi sul bisogno di guardare oltre i confini i cittadini scartando tutti i candidati locali. Aiello sostiene, nelle osservazioni condivise alla stampa, che le scelte dell'amministrazione comunale dovrebbero sostenere prima i nisseni e richiama l'episodio della scelta di professionisti del palermitano per la realizzazione dello spot della scorsa estate per incentivare gli acquisti in città. Così i consiglieri della Lega Oscar Aiello e Valeria Visconti hanno presentato al sindaco un'interrogazione in merito all'incarico. Infine abbiamo contattato l'amministrazione comunale per la replica sulla questione sollevata dai consiglieri di opposizione e dal momento non abbiamo ricevuto alcuna risposta.